Ciao amici, oggi vi faccio vedere come applico il mio rossetto Kiss Proof di Andrea Professional nella colorazione Seductive Red. Anzitutto mi aiuto con il suo apposito pennellino, che ha una forma ergonomica studiata apposta per raggiungere tutti gli angoli delle nostre labbra. Il prodotto in stesura risulta fin da subito molto omogeneo. E seppur io non sia precisissima, così come potete vedere, il prodotto si va a stendere in maniera impeccabile e adattare alla forma delle nostre labbra, dando un risultato perfetto. Guardate che meraviglia! Ma aspettate, la magia vera arriva adesso. Niente ragazzi, il bicchiere è pulito. Riproviamo? Nada de nada! Ma proviamo sulla pelle. Niente ragazzi, non c'è niente. Tentiamo con la velina. Ragazzi, questo prodotto è Kissed Approved!